Che cos'è per Max Cormisano la ricchezza vera? Ah, non lo so. Dove devo parlare per l'istaglio? Guarda lì. Ok. Cos'è la ricchezza vera? Per me la ricchezza vera è essenzialmente due cose. Sapere chi sono e dove voglio andare. Il problema è che molte persone per capire queste due cose ci possono mettere decenni. La maggior parte delle persone non lo capirà mai, perché non inizia mai il percorso di esplorazione personale, di ricerca, ma capire chi siamo nel nocciolo duro, non nelle radici, la mia identità, le mie missioni, i miei talenti, le mie passioni e dove voglio andare. E questo è l'esterno, i miei obiettivi di trasformazione. Quando sei questo, per me sei ricco, ma sei ricco perché sei andato sulla strada che rispecchia quello che tu sei e non c'è altro di meglio nella vita. Ok? Grande Max Cormisano. Grazie. 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 Grazie.